Buongiorno a tutti, a breve vi mostrerò come è possibile redigere il documento di valutazione dei rischi, il DVR in Suite Sicurezza Lavoro, vi mostrerò come si presenta la struttura del DVR, le possibilità di personalizzazione dello stesso documento che ci offre Suite Sicurezza Lavoro e la possibilità poi di espostarlo in un documento Word o di importare il DVR all'interno del software. Innanzitutto per procedere è necessario selezionare il nostro menu aziende e andare a selezionare l'azienda di interesse per cui vogliamo creare o visualizzare il DVR, vi prendo questa azienda come riferimento in quanto ho già inserito e importato alcuni dati quindi è possibile mostrarvi un DVR completo. Nel momento in cui viene visualizzato il cruscotto dell'azienda in considerazione è possibile attraverso la modalità tiles di visualizzazione dello stesso cruscotto accedere alla sezione documenti e visualizzare e poi selezionare il box relativo alla composizione del DVR. Per effettuare la composizione del DVR, oltre a questa modalità, è possibile anche procedere in questo modo e andare nel menu documenti e andare a selezionare composizione DVR. Oppure un'altra possibilità per accedere alla composizione del DVR è quella più classica, quella più solita, è quella di andare nel menu della valutazione dei rischi, poiché il DVR è redatto al termine della valutazione dei rischi. Quindi andando su questo menu viene visualizzata la valutazione dei rischi effettuata, è possibile attraverso questo tasto andare ad aprire il DVR o a creare il DVR o ancora è possibile visualizzare la valutazione dei rischi e ritroveremo anche qui due possibilità di aprire il DVR o di creare il DVR. In questo caso vi mostro come è possibile creare il DVR e cosa ci mostra il software. Innanzitutto diamo un nome al nostro DVR, è possibile anche selezionare la cartella in cui andrà a confluire il nostro DVR e poi soprattutto è possibile selezionare il modello per la creazione del nostro DVR. Ed è possibile selezionare il modello predefinito Wolters Kluver che è il seguente, è possibile attingere da alcuni altri modelli che vengono presi da aziende o da una banca dati creata in suite sicurezza lavoro e quindi vengono riportati tutti in questa finestra. Oppure infine è possibile ricercare liberamente andando anche a selezionare dei DVR da banca dati Wolters Kluver in questo menu. Io in questo caso utilizzo il modello predefinito fornito da Wolters Kluver, quindi procedo in questo modo. E a questo punto mi verrà visualizzata la finestra in cui verrà proprio visualizzata la struttura dell'intero DVR e posso anche procedere con alcune modifiche. Questa è la struttura e sono le sezioni del DVR vere e proprie, quindi matrice delle emissioni e revisioni, aspetti generali e metodologie di valutazione e valutazione dei rischi. Quindi viene visualizzata la struttura del DVR come una sorta di albero. Andando ad aprire questi nodi verranno riportati all'interno delle sezioni tutti i paragrafi e tutte le sezioni che si sono autocompilate riportando automaticamente i dati che sono stati inseriti all'interno di suite sicurezza lavoro. Quindi è possibile a questo punto andandosi a posizionare su un singolo elemento riportato all'interno di una sezione, è possibile visualizzarne un'anteprima, ma è possibile anche attraverso il tasto destro aggiungi, aggiungere per l'appunto uno di questi elementi. Quindi è possibile andare a personalizzare e a effettuare delle modifiche e delle integrazioni anche in questa fase. Come vi dicevo, questi paragrafi e tutte queste sezioni che vedete riportate sono automaticamente compilate, quindi non c'è un'attività manuale vera e propria, ma automaticamente vengono riportati tutti i dati in suite sicurezza lavoro. È possibile comunque in ogni caso modificare la struttura del documento andando anche a caricare manualmente un'eventuale nuova sezione che si vuole riportare. Vi mostro relativamente al singolo elemento tutto quello che ci consente di fare su e-sicurezza lavoro. Innanzitutto è possibile, come vi avevo già mostrato, visualizzarne un'anteprima ed è possibile poi andare a personalizzare le opzioni di stampa. Quindi posso selezionare, non so, di voler stampare il titolo, di escludere dalla stampa o di stampare sulla nuova pagina o addirittura di decidere l'orientamento che deve avere il testo nell'impaginazione. Vi mostro come è possibile poi in suite sicurezza lavoro avere un'anteprima del singolo elemento o del singolo elemento con i figli o addirittura come è possibile poi arrivare al modello di stampa vero e proprio. Quindi è possibile attraverso, andandosi a posizionare su un singolo elemento, vediamo l'anteprima come di seguito. E' possibile visualizzarla in questa modalità, eccola qui, quindi in questo modo voi avete un'anteprima del singolo elemento in questo caso. E' possibile procedere ovviamente anche da qui con la stampa e quindi verrà scaricato un file del singolo elemento in RTF, quindi un file Word. E vi mostro infine come è possibile procedere al documento vero e proprio, a visualizzare il documento vero e proprio. Quindi andando su stampa documento, il nostro software procede con il download del DVR intero, quindi sarà possibile visualizzare il file RTF completo del nostro DVR. E' possibile anche farlo, come vi dicevo, per un singolo elemento o per i figli anche del singolo elemento. E' possibile, un ulteriore aspetto che vi volevo segnalare, che è possibile anche importare eventualmente da un nostro, non lo so, inventory esterno, da un nostro file non presente in sui sicurezza lavoro, un documento RTF, che possa essere un paragrafo del DVR o un altro elemento. Basterà infatti andare su questo menu, su paragrafo, importa da file e a questo punto selezionando sfoglia potrò visualizzare e andare a caricare, importarmi insomma il file RTF oppure un file zip. Come vedete la stampa del nostro DVR è in corso, è un documento molto completo, quindi ha bisogno di qualche istante per scaricare interamente il file. Ed ecco qui il nostro documento, come vedete viene scaricata una cartella zip. Procedo aprendo la cartella in questione, ed ecco qui, vengono già riportate in tre cartelle differenti le tre sezioni del nostro DVR. Vado a selezionare ad esempio la prima sezione, apro il mio file RTF e visualizzo in Word, ho scaricato in un file Word, il mio DVR. Aggiorno il mio sommario, ed eccoci qui. Vi mostro le altre sezioni, in modo da potervi dare proprio un'idea di come viene scaricato e di come viene mostrato l'intero documento. Il file è il seguente, qui vengono riportati tutti i paragrafi relativi alla sezione Aspetti Generali e Metodologia di Valutazione. Quindi, abbiamo più o meno visto tutti i passaggi relativi alla creazione del DVR, alla possibilità che Sui Sicurezza Lavoro ci offre di personalizzare la stampa e anche proprio la struttura del documento. Vi ho mostrato operativamente come è possibile accedere a questo menu e impostare insomma tutte le preferenze dell'utente relativamente al documento, come è possibile effettuare l'importazione e l'esportazione del DVR stesso. Per quanto riguarda il focus su questo aspetto, abbiamo analizzato più o meno tutto, quindi io vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Salve a tutti!